Con il mio partner, sì, infatti con lui, che sai, facevo quello. Non abbiamo mai fatto sesso tradizionale. Mai? Mai, perché a lui piacevano i calci nelle bolse. Possiamo nominare? Sì, a*****o. Cosa fate nella vita? Che content creator! E chi ce l'ha più piccolo, chi ce l'ha più lui. Sì? Per mai l'importante è sb****are, mentre c'è un grande piccolo, non mi interessa. Si chiama the creating. Sesso con un fan. Cioè, non facciamo, vi prego, quelle che no. E Maria, io ero. Ciao a tutti e benvenuti al Nablu Podcast, un podcast un po' piccantino, come la piattaforma che ci ospita, ovvero nablu.com, dove potete trovare tutti i vostri content creator preferiti e oggi abbiamo una content creator decisamente importante. Abbiamo con noi Alicia Griffanti, ACA, la diva del tubo. Ciao, ciao, grazie per avermi invitata. E noi oggi vogliamo sapere, oltre a tutto quello che riguarda la diva del tubo, anche chi è Alicia? Perché vogliamo sapere di più su di te. Beh, io sono una figa. Giusto? Vero? Ma non una figa comune. Io sono un'ultra figa. Un'ultra figa? Secondo me la bellezza si divide in varie categorie, no? Ci sono le belle, le fighe e le ultra fighe. Le ultra fighe sono quelle che si distinguono da tutte le altre per un'estetica magari particolare, diversa dalle altre e anche per una grande personalità. E tu ti senti giustamente rappresentata dall'ultima categoria. Esatto, dalle ultra fighe, assolutamente. Però non a tutti piacciono le ultra fighe. Non a tutti? Non a tutti. No, perché l'ultra figa è inaccessibile, sai, per l'uomo comune. Quindi gli uomini comuni preferiscono magari le bellezze più accessibili, più comuni, no? E quindi spesso l'ultra figa viene anche odiata. Infatti io ho molti hater. E invece a chi piace l'ultra figa? L'ultra figa piace, secondo me, agli uomini un po' intellettualmente elevati. E diciamo a chi è sicuro di sé. Non è per tutti, sicuramente. Sei riuscita in qualche parte della vita a trovare un uomo giusto? Beh, tanto ne parleremo. Cioè già questa domanda, già mette il panico qui, ragazzi. Tanto so che poi uscirà la domanda, quindi la rimandiamo dopo. Allora ne parleremo. Stendiamo per ora, per ora stendiamo un velo pietoso, poi alziamo il velo quando c'è bisogno. Ne parleremo più avanti. Questo libro l'ha scritto più Alicia o più la diva del tubo? Sono narcisista. Allora, Alicia e la diva del tubo sono la stessa persona. Non c'è differenza tra persona e personaggio se non, ovviamente, chiaramente per scena, per spettacolo, tendo magari ad estremizzare alcuni tratti della mia personalità. Io sono davvero una narcisista diagnosticata. Come si diagnostica il narcisista? Beh, si diagnostica come qualsiasi altro, beh, è definito un disturbo della personalità, anche se secondo me più che un disturbo della personalità è uno stile di vita, quindi, però, così è per ora. Nel DSM 5 è un disturbo di personalità. Si diagnostica ovviamente non con i test online, ma andando da professionisti, facendo dei test, facendo delle sedute psicologiche che io ho fatto. Sì, sì, esatto. E infatti ne hai fatto il titolo del tuo libro. Del mio libro, che è uscito già un annetto fa, sono narcisista. Ho voluto, appunto, scriverlo per raccontare la mia vita, appunto, da narcisista, dato che noi narcisisti siamo molto demonizzati, soprattutto sul web, dai fuffaguru, che ci usano per hype e anche per raccattare magari donne deluse, magari dagli ex, che c'è distinzione tra stronzo, narcisista e quello che non ti ama, semplicemente. Esatto. Quindi è importante dire questo, quindi noi narcisisti veniamo visti come demoni, in realtà non è assolutamente così, quello che abbiamo in più è sicuramente una autostima enorme, un ego enorme, siamo molto presi di noi stessi e quindi possiamo essere visti in una certa maniera, però in realtà non siamo né cattive persone né altro. Tu sei di, ti sei sempre sentita narcisista, fin da piccola? Lo ero fin da piccola, nel senso che io mi ricordo che sui diari di scuola scrivevo sono bellissima, sono bravissima, poi quando ho iniziato a crescere un po' sono figa, sono ultra figa, e quindi io già mi sentivo una diva da bambina, questo lo possono testimoniare anche i miei genitori, sono sempre stata una diva e quindi dicono che il disturbo narcisistico si sviluppi più nell'adolescenza. Io sono certa che ero così anche da bambina perché me lo ricordo se lo ricordano tutti, quindi secondo me io ce l'avevo già prima. E poi io ho diagnosticato anche un tratto psicopatico all'interno della diagnosi, che anche qui ovviamente lo psicopatico ci si aspetta al serial killer, in realtà non è così perché ci sono ad esempio anche tanti medici, chirurghi che sono psicopatici come tratto o pompieri, tutte queste persone che fanno lavori un po' particolari perché la psicopatia è caratterizzata da una freddezza emotiva, quindi noi siamo in grado anche di fare dei lavori utili alla società perché non soffriamo se un medico magari non soffre, se un paziente muore, non che tutti i medici siano psicopatici, però è un disturbo, un tratto riscontrato appunto tra chirurghi o che fa questi lavori, quindi è importante nella società che ci sia lo psicopatico, proprio perché se no nessuno farebbe quella tipologia di lavoro, e quindi siamo caratterizzati da poche emozioni fondamentalmente, infatti io sono una persona che tende... Ciao ti sto interrompendo per pochissimi secondi per sapere se ti sta piacendo la puntata, fammelo sapere nei commenti e iscriviti al canale. Questi contenuti sono disponibili grazie a nablu.com che ci permette di parlare di argomenti tabù in uno spazio senza pregiudizi. Se ancora non sai cos'è nablu te lo spiego, è una piattaforma dove i tuoi content creator preferiti postano contenuti un po' piccanti sia foto che video. Se invece sei tu stesso un creator di contenuti piccanti, beh cosa aspetti? Iscriviti alla piattaforma e carica tutti i contenuti che vuoi per cominciare a guadagnare subito. Trovi tutti i link in descrizione, ma adesso torniamo alla puntata. A ricercare le emozioni forti anche ad esempio nelle relazioni, perché io le voglio provare queste cose, però una relazione normale con un uomo comune non mi darebbe questo tipo di emozioni e quindi le devo andare a cercare in situazioni un po' più strane. E io sono caratterizzata ad esempio da una mente macchiavellica. Sarebbe? Sarebbe una mente strategica, cioè io ragiono per strategie per ottenere i miei obiettivi, ma anche in generale proprio nella vita. Io ragiono per strategia, ho una grande intelligenza e la metto in atto per fare un sacco di calcoli, cioè per me ogni cosa che devo fare è un calcolo matematico. Questo porta un po' a perdere il lasciarsi andare, magari il viversi un bel momento, quindi devo imparare comunque a lasciarmi più andare. Quello che qualcuno direbbe quasi l'umanità di un determinato momento. Esatto, però ho una mente comunque che mi porta al raggiungimento spesso di quello che voglio, molto utile sul lavoro ad esempio. E quindi insomma questo è un tratto positivo. Poi ho una certa influenza sociale perché lo psicopatico, beh io ho solo dei tratti, però lo psicopatico è affascinante, quindi è brillante, affascinante, quindi diciamo che forse metto un po' in soggezione e quindi però piaccio per quello. Però ripeto, tutti questi disturbi di cui parliamo non hanno a che fare con l'essere cattivi o con la cattiveria, hanno a che fare con delle caratteristiche che poi è ovvio che se un narcisista, uno psicopatico, ma come un borderline o qualsiasi altro disturbo, da piccolo lo riempivano di botte, si traumatizza, magari poi diventa un serial killer. Certo. Ecco, quindi chiaramente ognuno poi ha il suo vissuto. Ognuno ha il suo percorso. E a proposito di percorso, da piccola liscia cosa voleva fare? Guarda, io sono avuto sempre, essendo narcisista, una spinta per la fama, per il successo, per l'arte. Quando ero piccola non c'era internet, non c'erano le influencer, quindi non potevo desiderare quello. Quindi desideravo di fare l'attrice o di fare la cantante perché volevo... Lo stesso tipo di fama, diciamo che vedevi nel... Sì, non sono, attenzione, una morta di fama, però mi piace che la gente mi idolatri. Può anche essere in un palcoscenico, può anche essere una cerchia piccola, non è che mi interessa diventare tipo Lady Gaga, per dire, no? Ok. Però tra le persone intorno mi piace essere quella popolare, diciamo così, attraverso comunque una forma di arte, non a caso, perché poi ci sono tante persone a caso, quelli che si fanno i gossip, quelli che sfruttano la fama degli altri, quelli che ti sattaccano, perché anche a me mi sattaccano per cercare di diventare famosi, e poi io qualcuno l'ho anche cercato di aiutare, ma poi non ce la fanno perché non hanno davvero la spinta, non hanno le capacità, le caratteristiche. Ecco, io non sono assolutamente così, a me piace essere idolatrata per quello che io porto, in questo caso, i miei contenuti. Poi crescendo, è nato internet, quando ero adolescente è nato internet, mi ricordo i tempi, non so, di MySpace, che magari ero già popolare, ho capito che mi piaceva quella cosa lì di esibirmi magari con delle foto, poi sono venuti video, poi è venuto YouTube, e ho capito che quello era il mio percorso perché univa ciò che io desideravo fare con la mia, che questo è un mio difetto, la piccola, ma siamo in due in realtà. Io sono quella che non si vuole alzare dal letto, non c'è niente di meglio che internet, perché io ho anche provato, io ho fatto un po' la modella prima, prima di iniziare, e sono andata un paio di volte a Milano in un paio di agenzie, me ne sono scappata, ma fare la modella ti devi fare un c***o, quindi non faceva assolutamente per me fare i casi, non ho mai fatto un casting, se non quando me l'hanno chiesto, le trasmissioni, proprio vieni a fare il casting che ci interessi, io di mio non sono mai andata a cercarmi trasmissioni TV, niente, perché sono troppo pigra, se non fossi pigra, magari sarei ancora più su, però tu devi conciliare quello che tu vuoi con le tue caratteristiche personali, perché poi se no ti stressi ed è una cosa che non va bene, io voglio fare la bella vita, voglio i soldi, i money, perché i money mi permettono di fare la bella vita, bella tranquilla in una suite di un hotel da qui non esco, cioè tipo il mio ideale di vacanza, sai quegli hotel che hanno? La palestra, la sauna, la spiaggia col mare davanti, ecco no? Ecco, quello è il mio ideale di vita, è proprio pigra, è una cosa che non mi piace di me, perché io poi vedo le altre persone iperattive che fanno mille cose e io lì sul divano come una cogliona e dico ma non è giusto, anch'io voglio fare mille cose, fare di più, però sono pigra, quindi non c'è modo di sconfiggere, tu lo sai? Ah sì, non c'è modo di sconfiggere la pigrizia, assolutamente. È bella forte, è bella tenace. Sì. A proposito di te, di quello che odi, la pigrizia, ma invece c'è tante cose che ami, nel tuo libro ne parli, e ogni tuo capitolo comincia con io amo. E questo l'ho fatto perché dicono che i narcisisti non amano, invece non è vero, noi narcisisti amiamo, amiamo i soldi, amiamo la nostra bellezza, la nostra persona, amiamo un sacco di cose, amiamo anche i partner. Certo. Eh, guarda, no, i narcisisti vi possono amare, succede anche quello, è una cavolata, che anzi, i narcisisti si innamorano proprio tantissimo, spesso idealizzano proprio i partner, quindi in realtà è solo che nelle relazioni siamo un po' problematici, questo sì, siamo un po' fragili, anzi direi. Che cos'è per te l'amore? Per me l'amore è ossessione, è passione, io allora, io non mi trovo tanto nell'idea di rapporto di coppia, io non sono tanto quella da fidanzato classico, nel senso che l'idea di un rapporto di coppia normale, la convivenza, il figlio, non voglio figli. Perché no? No, non mi piacciono i bambini. In generale. In generale. E poi non avrei mai tempo per accudire qualcuno che non sono io. Giusto. Ah, giustamente. Cioè, non esiste. E non mi vedo tanto il fidanzato, il fidanzatino con cui vai al cinema, vai a cena, vai... No, non fa tanto per me. Io ho sempre avuto delle relazioni travolgenti e passionali. Non passionali, non parlo di sesso, parlo proprio passionali in generale, in cui ci sono stati grandi coinvolgimenti emotivi. A me piace proprio l'amore nella sua forma, come la si immagina. L'amore è proprio il sentimento e l'emotività. Non mi piace troppo la questione della coppia tradizionale. Io non ho mai avuto frequentazioni tradizionali, sono stata fidanzata, ma sempre con dei pazzi. Poi ne parleremo, perché so già che arriverà la domanda. e quindi non sono il tipo, non ho mai avuto una relazione normale, un fidanzamento normale. Con il sesso invece che rapporto hai? Allora, io non faccio sesso in generale? Mai. Da anni. Da anni? Sì, perché io sono una persona che fa sesso, cioè, io sono usciti degli articoli, perché io ho fatto un TikTok dicendo il sesso mi fa schifo. ovviamente l'ho fatto, vabbè, per fare un po' di casino. Mi fa schifo l'idea di sesso promiscuo o l'idea di sesso senza amore. Cioè, nel senso, non so, se c'è un ragazzo carino che mi piace, che mi può anche piacere, può anche essere Brad Pitt, però io non ho un legame emotivo, a me il sesso fa schifo, ma perché io ti devo toccare che sei sudato, cioè, nel senso, non... Se invece c'è il legame emotivo, che può essere amore, può essere anche un'amicizia profonda, la chiamano demisessualità questa cosa. Sì, Anche se a me non piace definirmi in un'etichetta, mi sembrano un po' folli queste etichette, perché secondo me è normale, tra l'altro. Però se non c'è un legame, se non c'è un trasporto, una connessione mentale, io non dico debba essere per forza amore, l'amore della vita, allora a quel punto mi scatta l'attrazione sessuale, allora desidero fare sesso con quella persona. Tu capisci che non lo faccio da anni, perché è difficile trovare qualcuno con cui ti scatti, con cui crei quel legame, magari ho creato tanti legami che poi però vanno più verso l'amicizia, cioè è proprio difficile trovare qualcuno. Difficile per le persone tra virgolette normo, Esatto, soprattutto io sono molto selettiva e ci metto tanto ad affezionarmi e quindi insomma non è proprio facile per me. Quando non trovo nessuno io non ho proprio desiderio, quindi io vivo per anni senza alcun desiderio nella pace totale dei sensi. Beh, esattamente. Sì, mi occupo del mio lavoro, delle mie cose senza alcun desiderio sessuale, esatto. Cosa deve avere un uomo per attrarti? Guarda, ci sono tante caratteristiche che mi possono piacere, in realtà ho avuto attrazioni per uomini molto diversi tra loro, però quello che fa un po' lo stronzo è irresistibile. Che è un po' per tutti in realtà. Sì, un po' per tutti. Infatti. Io partirei proprio dal tuo libro per sviscerare diverse tematiche. il primissimo capitolo del tuo libro è Amo me stessa e abbiamo abbastanza approfondito ma in realtà cosa vuol dire amare se stessi per un narcisista? Vuol dire avere un autostima, la chiamano autostima ipertrofica e noi abbiamo appunto questa che poi qualcuno dice non è una vera autostima in realtà non vi piacete ma è un discorso che non vale perché l'autostima di fatto c'è poi che l'autostima sia nata da un trauma o da un dolore che noi magari per superare questo dolore nell'adolescenza nell'infanzia abbiamo creato questa mega autostima quello va bene sarà così io non so esattamente perché sono così può essere così può essere no dicono anche ad esempio l'educazione ricevuta i miei genitori effettivamente mi hanno sempre trattato da divinità quindi poi tu sei abituato che cresci ecco no quindi dipende da vari fattori questa autostima c'è ed è enorme è proprio una cosa smisurata smisurata e ad esempio vi faccio questo questo esempio che faccio sempre il mio ex usa delle sostanze sì io gli avevo chiesto io non ho mai usato sostanze né con lui né con nessuno non mi interessano gli ho chiesto ma tu che cosa provi quando pippi e lui è mi sento Dio e io gli ho risposto ma questo c'è anche scritto nel libro io gli ho risposto ma scusa io mi sento Dio normalmente e lui è beata a te che mi senti non è una cosa normale sentirti Dio quindi praticamente è come se io fossi sempre drogata da quello che ho capito sempre up esatto sempre up ci sono anche dei down quando qualcuno ti ferisce quella quel tuo sentirti quel tuo sentirti divina quando hai un fallimento quando qualcuno ti ferisce non ti tratta come la divinità che tu ti senti lì capita di stare male ma non qualcuno dice perché ti si abbassa l'autostima no perché sei tu uno stronzo che hai dei problemi a non capire che io sono così e mi fai un reato di lesa maestà ok capito e quindi io mi incazzo e quindi è lì che si viene a creare la problematica oppure i fallimenti lavorativi così li prendiamo un po' peggio rispetto alle persone che non sono narcisiste diciamo il secondo è amo il mio culto il culto di te stessa il culto di me stessa quello è un capitolo che parla della religione del rapporto con la religione specificando appunto che io sono il mio Dio benissimo io sono il mio Dio io non ho io non credo ad altro Dio al di fuori di me assolutamente io sono la mia religione quando mi chiedono tu credi sì in me stessa un sacco sì hai i tuoi comandamenti li devo li devo li volevo fare li volevo scrivere magari in un prossimo libro farò i comandamenti della della diva mi piace sì sì li aspetto li aspetto va bene voglio poi ami il tuo business sì io sono una persona che ama il proprio lavoro che per me non è un lavoro è un modo di essere insomma a me piace fare i video piace fare le foto piace fare la creator quindi in realtà è una cosa che che faccio con piacere e che mi fa guadagnare quindi lo faccio molto volentieri sì tu da creator che contenuti porti? io porto contenuti social quindi youtube ho iniziato con youtube sì youtube tiktok instagram e anche piattaforme adult in cui interpreto e sottolineo interpreto il ruolo della della dominatrice della mistress sempre attraverso questi video perché specifici specifichi interpreti? perché purtroppo le persone pensano che io magari incontro cioè che io faccia davvero la dominatrice che lo sia nella vita sicuramente io sono una persona di carattere dominante ma questo non c'entra con fare la dominatrice perché non è che tutte le dominatrici vere sono anche dominanti cioè è un lavoro come un altro interpreti un ruolo e quindi io mi sento appunto sicuramente con un carattere molto forte che si applica bene al ruolo della dominatrice e quindi io recito in dei video che vendo sulle piattaforme l'hai mai fatto dal vivo? ho provato perché volevo togliermi la curiosità l'ho provato con un signore che era venuto a farsi dare i calci nelle bols perché io a ciao darwin avevo tirato fuori la cosa dei calci che era mezzo finto nel senso l'ho fatto in qualche video con attori tra l'altro ce n'è uno lì che mi ha donato i suoi coconuts quindi l'ho fatto con attori attori comunque masochisti naturalmente e però è diverso perché il video è sempre ciak si gira non è una non è una sessione non è è finto come girare un film porno esatto solo che non è porno a BDSM ok ho provato una volta a fare la sessione con un signore che mi aveva chiesto appunto i calci mi sono trovata male perché sai perché? perché lui è una persona bravissima però era eccitato e questa cosa ti cioè alla fine mi sono sentita un po' una escort nel senso che lui stava avendo con me una cosa veramente sessuale perché lui lo eccitava quello certo e io mi sono sentita molto a disagio perché mi sono sentita come l'oggetto del suo piacere senza che appunto da parte di lui ci fosse beneficio effettivo però ho voluto provare l'esperienza l'ho fatta e non l'ho più rifatto proprio perché mi ha dato fastidio senza che fosse colpa sua non gliel'ho fatto pesare naturalmente però il fatto che lui mi guardasse con quell'occhio trombino no questa è una cosa che con il mio partner sì infatti con lui che sai facevo quello sì sì lo possiamo nominare? sì Andrea Di Pre facevo io gli davo i calci non abbiamo mai fatto sesso tradizionale mai? mai perché a lui piacevano i calci nelle balls io come ti ho detto non sono particolare l'avrei voluto fare lo ammetto perché lui era veramente il mio fidanzato ti penti di non averlo fatto col seno di poi? ma io è stato lui che non è stato in grado ci ha detto proprio come va detta quindi avrei voluto farlo perché per una cosa simbolica in realtà certo no non mi pento è andata così e poi non se la meritava quindi col seno di poi non se la meritava non se la meritava però i calci se li ha meritati è come quelli li ha presi per bene ognuno ha quello che si merita è quello che si merita la f***a è quello che si merita i calci nei coconnes giustamente allora però lui anche lui si eccitava ma siccome era il mio fidanzato non mi dava fastidio anzi mi piaceva che lui godesse certo invece il signore della sessione no cioè mi ha proprio presa male quindi l'ho fatto e poi non ho più ripetuto l'esperienza con nessun altro quindi è stata un'esperienza singola effettivamente è una prestazione sessuale quella a pagamento quindi insomma non fa proprio per me non è quello che voglio sì quindi non ti definisci sex worker allora in teoria io lo so lo sono perché facendo hollyfans facendo video di questo tipo che comunque sono erotici non faccio porno mai dire mai nella vita certo però lo farei con un partner fisso però secondo me sex essendoci la parola sex io preferisco chiamarlo adult performer adult ecco perché sì si rivolge a un pubblico adult però però il fatto che c'entri col sesso non non si suona bene esatto esatto perché un conto se fai porno però se non lo fai è un po' too much essere chiamata sex worker diciamo cioè come un film erotico io faccio dei video che sono pazzeschi perché io uso anche tanto il green screen con effetti speciali io faccio video di dominazione finanziaria di ipnosi come si fa un video di ipnosi un video di ipnosi si può fare a livello di erotismo lo decidi tu puoi essere tutta coperta come può essere in intimo come può essere nuda io faccio anche il nudo integrale costa tanto cioè costa tanto mi costa un bel po' però però lo fai lo faccio e quindi mi metto di fronte alla videocamera come se la videocamera fosse fosse lo spettatore e gli dico in inglese io faccio tutto in inglese gli dico guardami negli occhi rilassati io sono la tua dea tu sei il mio schiavo e mi devi dare tutti i tuoi money ah ok loro sganciano però è una cosa veramente molto soft che non ha niente a che fare con la pornografia che è una cosa molto elegante molto raffinata poi per carità ho fatto anche i video non raffinati cioè ho fatto anche i video un po' più ci sta però sempre da sola sempre quando faccio video con altri collaborazioni io sono sempre vestita o topless però non non faccio mai vedere oltre quando sono con qualcuno perché non voglio che l'altro performer mi veda nuda cioè nel senso sono molto pudica anche e quando adesso sono da sola faccio anche qualche Holyfans lo uso di più per fare gli strip per fare cose un po' più erotiche ma sempre da sola sempre tutto molto elegante e poi io ho un rapporto anche di mi pagano anche per farsi insultare quindi io insulto gli spettatori con parolacce con cose di umiliazioni però tutto ciò per me non è pornografico è molto diverso da quello che fanno le altre ragazze di Holyfans per cui il termine sex worker non lo sento mio e qual è la cosa che vendi di più? che vengono di più l'ipnosi l'ipnosi la dominazione mentale sì sì assolutamente e non la vendo in Italia questo solo all'estero perché è un filone che in America va tanto va tanto sì 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 scrivi poi che ami soldi sì vabbè qual è il tuo rapporto con i soldi? allora è stato molto ossessivo quando dovevo farli cioè sono partita da YouTube io ho iniziato a fare questo lavoro per i soldi cioè non anche YouTube anche YouTube io iniziai YouTube nel 2011 sì che c'erano solo quattro ragazze eravamo in pochissime un mio amico mi disse ma lo sai che si fanno i soldi a fare i video su YouTube? io ah giorno dopo verga subito sì poi mi è piaciuto tantissimo perché poi lì ho scoperto la fama al diventare famosa all'essere idolatrata quindi quello ormai è quasi più un piacere non avrei bisogno cioè se io volessi chiudere con i social potrei farlo perché tanto il mio maggior introito arriva da quest'altro campo quindi lo faccio soprattutto ormai per piacere perché è proprio quello che amo ovviamente dai social poi mi pubblicizzo anche il resto certo però relativamente perché tipo i siti americani chi è che mi guarda sui social cioè nel senso non mi serve quindi i social sono veramente proprio un piacere una gloria diciamo ecco questo lo faccio veramente con amore e i miei follower lo sanno comunque lo capiscono lo percepisco quindi quando si parla di soldi faresti di tutto? no non farei di tutto farei il mio limite come ti ho detto prima la sezione la sessione dal vivo non mi è piaciuta non farei mai sesso per soldi quindi faccio quello che mi piace non faccio quello che non mi piace ecco questo quindi il limite è quello che non ti piace esatto sì è quello che non mi piace certo magari per una cifra consiste io dico non farei mai sesso per soldi ovvio mi arrivano due milioni di euro ci penso ci pensi? sì qual è la cifra? ci penso come allora io minimo un milione ok per la pussy ok un milione il dietro non è quello è vergine e sarà sempre vergine sempre? sì no quella no non mi piace proprio come pratica la trova antigienica ok e però un milione se mi offre qualcuno uno sceicco non so magari anche un po' bellino se è proprio cesso no però un bel milione non che cambi la vita un milione poi in realtà cioè ti cambia se sei povero certo però se già li hai però beh insomma un milione in più sputaci eh no infatti e quindi ci penserei non dico che lo farei ho detto che ci penserei come ci penseresti anche tu come ci penserebbero tutti quelli in questa stanza sì 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 è ovvio è così è meglio cioè è bello essere sinceri e dirlo poi ami la fama ma più o meno sì questo questo non abbiamo già parlato e poi ami la chirurgia estetica beh sì ho fatto uso di chirurgia estetica per diventare più bella le persone a volte dicono ecco non è vero che hai autostima perché ti sei rifatta ma avere autostima non vuol dire non avere senso critico su se stessi io ho senso critico se ho dei difetti so di averli se ho dei difetti voglio sistemarli grazie alla chirurgia che non è diverso dall'andare in palestra non è diverso dal cambiare colore di capelli o da farsi il tatuaggio alle sopracciglia è un po' più estrema la chirurgia certo però come tu come tutti si fanno belli anche la chirurgia rientra nel farsi belli e in realtà credo che al di là dei casi perché poi la chirurgia può diventare una dipendenza sì quello è brutto quella è un'altra cosa qui parliamo di un'altra cosa tutto può diventare una dipendenza assolutamente ma usata nel modo giusto per diventare più belle non ha nulla a che fare con un'insicurezza anzi vuol dire migliorare se stessi io dico sempre non accettate quando fanno questi discorsi bisogna accettarsi con i propri difetti ma no non ti devi accettare con i tuoi difetti puoi migliorare i tuoi difetti perché ti devi accettare accontentarti no se poi tutta quella wave della body positivity no per me sono str*****te quindi se no se tu sei grassa ok perché devi accettarti grassa se ti piaci sì se ti piaci sì ma se ci deve essere il percorso dici di accettazione eh no fatti una dieta e dimagrisci cioè perché devi accettarti grassa no solo se ti piaci perché ognuno ha i suoi gusti certo ci mancherebbe anche molti uomini amano le donne grasse c'è tutto un filone del fetish ci mancherebbe altro però se non ti piace perché ti devi accettare non non accettarti grassa se puoi migliorarti se puoi migliorarti in modo sano naturalmente sì 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 ma in parte sono d'accordo in realtà grazie a parte poi ovvio che se ti manca una gamba certo capisco che allora la body positivity in quello ci sta e lì devi fare magari anche un percorso psicologico per accettarti con un difetto che non è sistemabile e quello è una cosa diversa ma tutto ciò che puoi migliorare di te stesso o di te stessa miglioralo sono estremamente d'accordo tu cosa hai migliorato con la chirurgia stessa? io ho rifatto il seno e il naso con proprio chirurgia chirurgia ok e l'ho fatto in realtà per lavoro perché quando ho iniziato a vedermi nei video il mio naso era un po' grosso ma non era brutto era un po' un po' più grosso di questo però nei video dicevo cacchio però si potrebbe sistemare si vede si vede poi vabbè il seno quello è stato fatto per business totale sì chiaramente facendo un lavoro nell'adult per forza serve l'ho fatto ma io avevo già una seconda abbondante quindi adesso sono una terza abbondante quindi una bella misura in più una bella forma a che tale hai fatto? eh l'ho fatto non mi ricordo perché sono già passati un bel po' di appunto dopo i 25 l'ho fatto e ho deciso di farlo appunto per un investimento lavorativo il naso alla fine è la stessa cosa penso che se non avessi fatto questo lavoro non l'avrei rifatto l'unico mio vero complesso che avevo erano le labbra perché? perché erano sottili e sul mio viso non è che non mi piacciono in generale su alcuni visi stanno bene ma sul mio che è un viso comunque abbastanza importante come lineamenti come struttura secondo me con le labbra sottili proprio non mi stavano bene poi a me piace portare rossetti scuri truccare tanto le labbra rossetti neri che si rimpicciolivano ancora di tutto certo quindi veramente le labbra lì avevo proprio sì lo dico un'insicurezza sulle labbra che proprio non mi facevano sentire bene infatti è stata la prima cosa che ho rifatto sono state le labbra e quando le ho rifatte ho detto wow finalmente mi sento proprio me stessa ecco che comunque è un passaggio di miglioramento certo anche psicologico sì sì no certo è bello vedersi più belle ovviamente è proprio una cosa bella poi ti guardi le foto vecchie e dici mamma mia ecco sì però insomma l'ho fatto in tutta serenità poi ripeto bisogna farla bene la chirurgia andare da avere i professionisti non impazzirci dietro perché poi c'è chi vuole sempre di più e poi si rovina questo assolutamente sbagliato poi scrivi che ami la libertà sì la libertà è anche molto legata ai soldi nel senso che i soldi dicono i soldi non fanno la felicità da soli no cioè se te li tieni in banca però se li usi bene però se tu li usi per essere libera nel senso che puoi fare quello che vuoi puoi andare in vacanza dove vuoi puoi tutto quello che ti passa per la testa te lo puoi comprare puoi vivere serenamente sul divano di casa tua senza pensare alla schiavitù del devo pagare le bollette quella è la libertà e la libertà fa la felicità che qual è la cosa che probabilmente con i soldi ti ha reso più libera di tutto il fatto di sì come ti ho detto di poter fare quello che voglio ok di poter curare anche la salute tra l'altro cioè ad esempio la salute mentale estremamente costosa molto costosa io ho speso tanto per la salute mentale e poi dicono i narcisisti non vanno in terapia invece non è vero non è vero magari ci vanno in dei periodi fallimentari quando una relazione va male quando soffrono ma come tutti certo e ho potuto permettermi di spendere molto e la terapia è una cosa fichissima cioè io la consiglio a tutti è troppo bello conoscersi poi non è che si viene curati si 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 viene a conoscenza del perché tu soffri in determinate situazioni quando tu lo sai tu non è che non soffri più ma sai perché è il mio disturbo non c'è nel senso sai anche come affrontarlo meglio si esatto esatto agli strumenti nella seconda parte del libro mi sono sentita di dividerlo un po' così nella seconda parte del libro parli del fatto che ami l'amore ma ne abbiamo parlato e del fatto che ami un subumano che cos'è un subumano? no il subumano era Andrea Di Pre che è un vero autentico subumano cos'è il subumano in generale? nel senso una persona che comunque si è ridotta allo stadio larvale allo stadio sotto l'umanità quando ho scritto il libro che è recente lui era già in queste condizioni all'epoca del libro lo amavo adesso un po' di meno ok mi sono un po' rotta le scatole di lui comunque lo amavo ancora perché noi abbiamo avuto una storia veramente tossica e soprattutto io l'ho conosciuto che lui era fantastico perché lui era un genio una persona super brillante super intelligente mi è piaciuto tantissimo era super e poi si è distrutto quindi io ho proprio visto la sua trasformazione da umano a subumano è presente quei film delle trasformazioni fisiche che prende la decadenza purtroppo la droga porta a questo e io ho proprio assistito a questa decadenza fino alla subumanità in cui lui si trova adesso e quindi ho scritto questa canzone sì 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 ho visto che si chiama subumano e che dice proprio nel ritornello amo un subumano la canzone prima del libro sì e dice proprio anche nel video musicale è rappresentato questo subumano tutto sporco che vive in cantina era lui tra l'altro lui si è arrabbiatissimo perché io non ho non l'ho nominato nella canzone con nome e cognome perché lui ci tiene tantissimo ad essere associato al subumano tutti vogliono che il subumano sappiano che lui è il subumano quindi io lo dico il subumano è Andrea Di Pre ok no poverino lui ci tiene lui ci tiene ci tiene tanto e il subumano è Andrea Di Pre e adesso so che dopo questo podcast lui tornerà in ginocchio da me da te sì si implicherà di chiamarlo ancora subumano il tuo subumano sì e ho visto che sempre nel videoclip di subumano di cui mi parlavi tu nel videoclip diciamo ricopri le funzioni prima di una regina bianca e poi di una regina nera sì qual è la simbologia che ti trovo allora questa è una cosa ci sono tante interpretazioni che capita spesso nelle mie relazioni perché io inizio le mie relazioni veramente con una buona fede assoluta come ti ho detto io credo nell'amore io non mi ritengo una cattiva persona sono anche una abbastanza brava fidanzata non non tradizionale ok però do molte attenzioni sono dolce cioè nel senso sai amare so amare penso di sapere amare anche perché quando si ama se stessi si sa amare anche l'altro e poi però questa bontà cioè non bisogna mai essere buoni questo è perché ve la mettono nel c***o benissimo quindi parte come regina bianca esatto questa regina bianca innamorata è stata spesso tradita ma non parlo di tradimenti proprio tradita nel profondo ferita e questo ha fatto uscire il vero autentico e potente disturbo narcisistico trasformandomi trasformandomi in cattiva quindi io nelle mie relazioni importanti sono sempre passata da vittima da sotto una vittima a carnefice in cui li ho massacrati soprattutto Andrea l'ho massacrato e è proprio un cambio di non di personalità perché è la stessa personalità però tutti noi abbiamo una parte cattiva cioè cattiva nel senso una parte che vuole vendicarsi che vuole la rivincita e io l'ho avuta senza limiti perché poi essendo comunque una narcisista con tratti psicopatici quando devo fare del male io non ho nessun limite morale ovviamente cioè mi sono state fatte delle azioni gravi dai miei uomini cioè non ti parlo di quello che non risponde su whatsapp ti costa io parlo di cose veramente brutte di violenze psicologiche che ho subito da parte di persone che poi alla fine avevano dei disturbi e quindi non è che si possono incolpare ma questo lo so adesso che ho fatto un percorso psicologico prima io dicevo lo fanno per farmi del male per farmi del male cioè quindi cioè per dire Andrea Di Pre mentre stava con me si è sposato con un'altra si è sposato? si è sposato con un'altra cioè neanche il tradimento non si è scopato un'altra che diceva vabbè o capita esatto non capita però insomma capiti prendi due insulti si è sposato? si è sposato un'altra come è andata questa cosa? allora praticamente lui era un po' quello che faceva i gossip finti amorosi perché lui è proprio uno di quelli che ricerca la fama quindi anche io sono stata vittima del gossip finto nel senso solo che lui mi ha fatto credere di avere una relazione vera per farsi il gossip con me ok quindi già questa è una cosa terribile è veramente terribile perché un conto te lo chiedi senti facciamo un gossip esatto cioè una cosa concordata lui è proprio ti amo facciamo il gossip quindi lui mi ha proprio usata per hype che non aveva neanche bisogno perché era molto più famoso di Melty certo però lui usava tutti per hype tutte le persone a cui si è avvicinato e già questa è una cosa brutta allo stesso modo ha fatto gossip anche con altre più o meno veri più o meno finti lui cercava sempre di intortarle con l'amore vero era bravo a intortare sì un gran manipolatore sì 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 proprio un manipolatore modello da imparare da lui sì e quindi dicevi appunto che si è sposato con un'altra allora per qualche non lo so forse tramite qualche manager non lo so ha avuto modo di incontrare una pornostar americana sì si può fare il nome? no ma non lo faccio perché lui ci gode allora no quindi non lo fa e poi perché lei poverina si è ritrovata in una situazione bruttissima questa povera donna ok porella quindi non la nominiamo anche per rispetto suo che ha beccato sto coglione giusto praticamente hanno fatto un matrimonio finto che serviva in modo pubblicitario ad entrambi perché lui era famoso in Europa lei magari aveva piacere a farsi conoscere in Europa o a fare qualcosa in Europa credo eh perché se no non vedo il motivo comunque lui si faceva la pubblicità con la pornostar americana e quindi praticamente in California o in come si chiama dove c'è Las Vegas Nevada ok si possono fare questi matrimoni fasulli come quello che si fa a Las Vegas e si fa anche in California lui si è sposato a Los Angeles si fanno i matrimoni veri e propri però in quegli stati se tu non vai poi in comune a confermare è nullo non vale assolutamente niente cioè chiunque si può sposare a Las Vegas per divertirsi ma se non si va poi a confermare in comune non è valido quindi loro due si sono messi d'accordo di fare questa cerimonia finta che poi non avrebbero confermato in comune per farsi pubblicità a vicenda non si conoscevano neanche è stata una cosa proprio tipo tra agenzie o manager si sono incontrati lì hanno fatto questo matrimonio qualche video e poi si sono salutati ciao tanti saluti proprio una cosa finta come i gossip finti certo sì 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 lui mi chiama e mi dice tesoro mi sono sposato come ti sei sposato in che senso scusami e mi fa no è una cosa finta è una cosa di gossip io ho capito però però non te l'aveva neanche detto prima no eravamo fidanzati io sono rimasta scioccata che ho detto ma come poi non se l'ha neanche scopata se l'è solo sposata quindi non mi ha neanche tradita certo si è solo sposato con un'altra cioè tu avevi visto che era andato via ma pensavi sì lui andava spesso in America non ebbè insomma quindi poi esce il video di questo matrimonio la gente che non è stupida non ci credeva che fosse una cosa vera certo questa è una super gnocca questa ma figurati se si sposa lui un italiano così nel senso sì 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 sei famoso poi lui all'epoca comunque era un uomo molto elegante molto distinto sì 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 quindi poteva piacere ok però che ti sposi la pornostra americana ci credono in pochi soprattutto che prima di quella è rifidanzato con mille altre per finta certo allora lui pur di farlo credere e perché siccome lui voleva andare sul wikipedia di lei sì è tornato in America è andato in comune a far verificare il matrimonio quindi si è veramente si è veramente sposato si è veramente sposato con la pornostar lui attualmente in America è veramente no perché poi chiaramente hanno dovuto cioè è successo un casino poi hanno dovuto divorziare ovviamente ma perché lei giustamente non era poi consensiente ma certo che no gli accordi erano altri lei si è ritrovata davvero sposata sposata purella eh poverina sì e io le avevo anche scritto per sapere la sua versione io sono la fidanzata vera che cacchio è successo uno di sei e lei mi ha detto un pazzo un pazzo mi ha fatto un tranello doveva essere una cosa pubblicitaria e poi invece è andato a registrare è andato a registrarlo in comune l'ha proprio fregata ma lui è un genio comunque cioè lui è veramente un genio perché io lì mi sono detto ok sei un coglione però sei un genio perché chi è che ti fa una roba del genere cioè da un lato l'ho detto perché sei un genio del male comunque no e questa è la storia del cioè del tradimento sì brutale brutale sì però peggio però tecnicamente non ci ha scopato quindi quindi dici era peggio se ti scopava no io allora non allora all'epoca magari ci sarei rimasta male perché poi la relazione è andata a rotoli in realtà perché lui si era messo a fare porno con chi? con le pornoattrici proprio? sì lui si è messo a fare porno ma ai tempi non c'era holly fans adesso se fosse stato adesso magari l'avrei vista diversamente ai tempi non c'era holly fans non c'era niente lui andava in giro a fare porno pagando di tasca sua le donne le pornoattrici per metterli su e farsi vedere che faceva sesso con viagra perché lui altrimenti sì 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 non gli si alzava e forse proprio perché non gli si alzava voleva far vedere al pubblico che invece lo faceva voleva dimostrare esatto è una dimostrazione sua questa cosa è accaduta nel mezzo della relazione io che pensavo fosse il fidanzato perfetto perché lui ha la facciata da principe azzurro non riesco a aspettare non riesco a vederlo così no lui è proprio il fidanzato dei sogni quello che telefona tre volte al giorno ti scrive ti amo è dolcissimo è un coccoloane proprio dolce affettuoso una roba paga cioè nel senso no all'antica peccato che alle spalle poi ci sia alle spalle mi ha fatto delle cose terrificanti lui aveva un sacco di relazioni parallele telefonava alle altre no ma la diva è un cesso una troia io ci sto solo per i video e le altre mi me lo dicevano capisci e tu come reagivi a questa cosa me lo dice una dico vabbè ma sarà una gelosa due tre che non si conoscono tra di loro dico cazzo è vero questo mi infama mentre sta insieme a me a me ti amo e alle altre e agli altri però poi lo diceva anche agli amici è una cessa la odio perché lui è borderline e quindi ama e odia solo che all'epoca io non lo sapevo pensavo ma questo che cazzo sta facendo io lo distruggo infatti poi lo ho massacrato quant'è durata la relazione? ufficiale un anno e mezzo il tira e molla è durato sei anni sei anni sì sette non so è durata ma tra l'altro è ancora in corso perché io ormai me ne sono uscita ma lui ancora insiste ogni tanto mi insulta sui social adesso è più nella fase odio anche perché non ha più le mie attenzioni anche se dopo questo video tornerà innamorato però perché cerca la sua attenzione anche nel tuo odio in un certo senso ma io l'ho fregato perché essendo lui molto intelligente però io sono più di lui come ti dicevo l'intelligenza macchiavellica e quindi l'ho f***o con i giochetti psicologici sapendo che lui lui ha questo bisogno di attenzioni disperato io gli ho dato attenzione nella vendetta nello sputtanamento quindi più che lui avrà bisogno di attenzioni più che e quindi lui non mi ha mai fermata si godeva tutte queste attenzioni negative che però gli hanno distrutto la carriera gli hanno distrutto la vita gli hanno distrutto tutto adesso pensi sia nel punto più basso nel punto più basso del subumano però io con la droga non ho a che fare ecco quella è una scelta sua ed è quello che poi l'ha distrutto definitivamente ho visto un video di recente che ti identificava come la femme fatale di di prea un po' quello che in realtà l'ha tenuto su più che buttarlo giù allora io credo che di averlo buttato giù io tra l'altro penso di essere l'unica vera femme fatale italiana sì perché comunque non c'è nessuno effettivamente quel video che sta girando che ha girato mi è piaciuto tantissimo è un video bellissimo e che sono stata identificata come chiamata femme fatale effettivamente sì per lui sono stata fatale e so essere fatale assolutamente ma davvero non per finta cioè io quando cioè se devo far male a qualcuno se non è che faccio io lo faccio veramente e lui ne è la prova ovviamente però ripeto non è per cattiveria ma è perché in quel caso era l'unico modo per sopravvivere io perché lui mi ha fatto così tanto male così tante violenze psicologiche tra l'altro subdole perché c'era la facciata certo che io stavo così male che l'unico modo per sopravvivere io a quel dolore era distruggergli la vita e così ho fatto perché alla fine vita mia morte tua simbolicamente naturalmente e così così è stato e credo di essere davvero l'unica in Italia che può meritare questo appellativo di femme fatale tra le celebrity o le influencer ecco no di femme fatale quindi ve lo prendo molto volentieri l'ultimo capitolo del tuo libro proprio amo la vendetta sì quindi la peggior vendetta che hai attuato quella lui sicuramente in che modo l'hai attuata poi sempre appunto tramite questo questa specie di ricatto sì io facevo questi video in cui lo sputtanavo in ogni maniera gli ho fatto delle denunce perché poi l'ho beccato con delle minorenni sì quindi che poi magari non erano cose volute perché lui scriveva tutte quindi ci capita in mezzo certo insomma non capita tutto poi sì e però io mi sono agganciata io ricordo che ho fatto sono andata a fare questa denuncia perché l'ho beccato con queste minorenni che poi la loro volta l'hanno denunciato le ho fatte denunciare cose di chat cose così sì e ho fatto in modo che uscissero degli articoli di giornale il giorno 14 febbraio del 2017 credo quindi per San Valentino il giorno di San Valentino sono usciti gli articoli Andrea Di Pre accusato di pedopornografia dalla ex meravigliosa e io ho fatto una storia su Instagram con le sbarre sì della prigione sì un fiocco rosa e con scritto buon San Valentino e l'ho taggato geniale geniale assolutamente geniale poi un'altra delle vendette terribili che gli ho fatto lui si era messo con una nuova ragazza una bellissima ragazza di cui ero molto gelosa perché poi l'inizio della vendetta è scaturito dal fatto che io l'ho lasciato e lui si è messo con questa ragazza tu sei mio non puoi non puoi io ti posso lasciare ma tu devi tornare capito è chiaro e allora io cosa ho fatto c'è stato un anno di turbolines litigi con lei proprio c'è stata una rivalità con lei e poi alla fine mi ci sono fidanzata io con la ragazza quindi io gli ho proprio rubato la fidanzata nuova meravigliosa questa è stata la vendetta qualcosa di 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 epico una grandissima vendetta e mi sono presa la ragazza e gli ho fottuto la fidanzata pensa questo è il macchiavellismo questo è il controllo esatto adesso invece ti volevo proporre un minigame un piccolo gioco si chiama è un dieci ma si parla appunto di un dieci estetico quindi un ipotetico fidanzato perfetto se è un dieci zero il contrario ma quindi ha un difetto che potrebbe fare aumentare o diminuire il punteggio quindi partiamo subito da è un dieci ma non ti venera come una dea allora poi è un problema perché diventa uno zero però mi attrae quindi è cazzo pesante questo è uno zero ma mascherato sì perché tutti mi venerano come una dea e e quindi ce lo odio magari però segretamente cacchio lo darei a quella lì quello lì sì quindi è un due ma ti venera come una dea è al contrario diventa un dieci ma me lo tengo come amico sottone ok è un dieci ma è narcisista come te non mi è mai successo secondo me rimane un dieci però non lo so con un narcisista come me è un'incognita perché potresti esserti innamorata di quasi uno specchio quasi di te spessa sì potrebbe essere interessante credo che ci sarebbe molto da litigare beh però teniamolo come possibile dieci è un dieci ma vuole scopare tutti i giorni e dipende chi è se sono presa è il tuo dieci quindi esteticamente è il tuo dieci magari tutti i giorni è un po' too much però insomma sputaci sopra nel senso va bene quindi diventa un nove otto dai un nove e magari ogni tanto qualche puttanella da inserire qualche trisom dici che almeno così io nel frattempo mi riprendo poi abbiamo è un due ma è pieno pieno zeppo soldi infiniti no non mi interessa rimane un due nel senso che sono io quella con i soldi ok sicuramente non mi piace l'uomo povero ma più per una questione magari di imbarazzo nel senso magari non può offrirmi la cena certo lo posso fare ce lo farei io però magari è imbarazzante magari è strano quindi però se mi capitasse di innamorarmi non mi farei problemi sicuramente preferisco un uomo che sia al mio livello comunque che sia economicamente stabile stabile sì sicuramente però non non mi interessa l'uomo ricco perché ce li ho già io i soldi e non sono assolutamente lo stereotipo di donna a cui interessano gli uomini ricchi e se invece fosse un 10 ma si vestisse soltanto con le tute beh me lo tengo e faccio cambiare un po' il look magari sono tute di alta moda quindi potrebbe essere infatti potrebbe essere può stare è un 10 ma è alto un metro e cinquanta siccome io sono un e settanta dici che stona un po' stona però non non dico che non potrebbe essere magari altre qualità intellettive ok quindi boh sì sicuramente non mi piace passerebbe sicuramente a un 4 però però potrebbe essere un 4 interessante certo questo può essere l'ultimissima è un 10 ma fa grossi apprezzamenti alle altre ragazze resta 10 non sono gelosa di queste cose può fare apprezzamenti può mettere i like può farsi le seghe zero anzi siccome anche io apprezzo la bellezza femminile ho anche avuto una fidanzata bellissima giustamente non sono bisex sessualmente cioè io ho avuto questa ragazza tanto affetto ma sesso no perché non sono attratta dalla patong lì non puoi farlo mi piacerebbe essere però purtroppo l'orientamento non lo puoi cambiare però sono attratta dalla bellezza femminile dal fascino femminile quindi io farei gli apprezzamenti con lui ok allora io ti ringrazio grazie a te ringrazio una blu per averci lasciato questo spazio e vi ricordo appunto di andarla a cercare su tutti i suoi siti e di comprare il libro che trovate su amazon si trovate direttamente su amazon e io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao